Cosa devo fare per essere buono? Perché devo essere buono? Queste domande che ci fa Gesù ogni giorno non sono facili, non sono le domande che facciamo ogni giorno, ma sono domande essenziali, sono domande che possiamo fare per ognuno di noi, ma anche per le persone che incontriamo ogni giorno, le persone a cui vogliamo bene, le persone a cui vogliamo dare qualcosa, ma soprattutto dal nostro cuore. Quindi oggi è la giornata dove chiediamo a se stessi cosa ho fatto di buono per gli altri, ma anche ogni tanto per me stesso. Perché devo essere buono? È solo la mia intenzione di essere buono, la intenzione del Signore, oppure lo facciamo per essere veramente buoni davanti al Signore nel giorno in cui lui ci aspetta. Buona giornata!